La gara lo stesso ritmo, l'abbiamo fatto l'altra volta, il quale è stato un test dopo che il primo è stato miglioramente nella resistenza della forza, e se ti sei affaticato meno in gara, e l'avanti, noi questa volta facciamo il testo, e poi facciamo il testo. Ho il terrore. Mi viene la salivazione a mille.